La lettura per stasera viene da Genesi capitolo 3 e poi leggeremo alcuni versetti anche nella lettera di Giacomo. Però iniziamo con la lettura della parola di Dio da Genesi capitolo 3, da versetto 1 fino a verso 9. Questa è la parola del Signore. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate altrimenti morerete. Il serpente disse alla donna, no, non morerete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo merito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascossero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e le disse, dove sei? Adesso vogliamo leggere anche della lettera di Giacomo, dal primo capitolo, verso 13. Nessuno, quando è tentato, dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Preghiamo. Dio Padre, ti ringraziamo per la Tua parola e ti preghiamo nel nome di Dio Figlio. Ti chiediamo che con la forza di Dio Spirito, che le Tue parole portino frutto nei nostri cuori stasera. Preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen. Allora, l'arte rende questa città così bella che ogni anno milioni di persone si riversano a Roma per vederla. Per natura siamo attratti dalla bellezza. La bellezza parla al profondo della nostra anima, in modo che a volte le parole non possono fare. La bellezza evoca pensieri, emozioni e desideri dentro di noi. Quindi quando è stata l'ultima volta che ha ammirato una bella opera di arte? Una scultura? Un dipinto? Un film? Un canzone? Un bel piatto di cibo? Quali pensieri, emozioni o desideri ha evocato? L'attrazione dell'arte è così potente, no? E per questo motivo l'arte può essere veramente pericolosa. Anche se l'arte non è intrinsecamente malvagia, di certo non è neutrale. Un artista ha sempre una particolare visione del mondo che plasma la sua comprensione della realtà? Attraverso questa particolare visione del mondo creano un pezzo di arte. Chi amira un'opera di arte interpreta la realtà attraverso una particolare visione del mondo. Quindi potrebbero non essere uguali queste visioni, ma nessuno delle due è particolarmente innocente. Alla fine la nostra attrazione per la bellezza ha la capacità di ingannare e distruggere. E quindi l'attrazione per un bel piatto di cibo può portare ai problemi di salute e allo sfruttimento degli altri. L'attrazione per la forma umana può portare all'idolatria, allo sfruttimento sessuale e a relazioni rovinate. L'attrazione per le arti grafiche può portare alla manipolazione delle masse. Poi il cibo, la forma umana, le opere artistiche possono essere cose buone e belle. Ma tuttavia l'attrazione per le cose belle e buone può portare e ha portato a molta sofferenza. E per capire meglio questa potenza ingannevole della bellezza dobbiamo capire meglio noi stessi. E in questa storia che abbiamo appena sentito dalla Genesi 3 nel giardino dell'Eden scopriamo come l'attrazione ingannevole dell'arte si è iniziata con una verità snaturata, che ha portato a una bellezza sfruttata e una brama insoddisfatta. Quindi questa è la nostra storia. Il primo punto. L'attrazione ingannevole dell'arte inizia con una verità snaturata. La bellissima creazione di Dio era piena di alberi bellissimi, pieni di frutti di vari colori, forme e gusti. Fu una splendida dimostrazione dell'amore e della cura di Dio per i Suoi portatori di immagine, Adamo ed Eva. Al centro del giardino c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. E essendo parte della buona e bella creazione di Dio, anche esso era bello, ma il suo frutto non doveva essere mangiato. Serviva uno scopo diverso, ossia ricordare ai portatori dell'immagine di Dio, la supremazia di Dio creatore, e le sue buone intenzioni nei confronti delle sue creature. L'ho fatto proibendo ciò che non appartiene loro, né dovrebbero appartenere loro, cioè la conoscenza del male, la morte. E con le parole maliziose del diavolo, in forma di serpente, lo scopo del bellissimo ma proibito albero fu messo in discussione. Lo standard di bellezza di Dio fu sfidato. La tentazione iniziò con il seme dell'inganno. Dio ha davvero detto che non si può mangiare di nessun albero del giardino? No, Dio disse di mangiare dai tutti i vari alberi ricchi di frutta che Dio aveva creato tranne un solo albero. E se l'avessero fatto, Dio disse che morerebbero. Satana disse, ma non morerete. In realtà Dio vuole solo che evitiate quell'arbero perché vi darà la conoscenza come Lui. Ti renderà come Lui. Versetto 4 e 5. Quindi sentite la verità snaturata? Come sempre, il diavolo contraddice e distorce le parole di Dio e le sue intenzioni buone. Invece di guardare alla bellissima creazione di Dio con occhi di fede, Eva gettava un sguardo scettico. Invece di concentrarsi sulla pienezza delle provisioni di Dio intorno a loro, iniziò a concentrarsi sull'unica cosa che non poteva avere. Iniziò a desiderare di essere come Dio e con i suoi occhi guardò il bellissimo albero di Dio e vide che era buono per il cibo. Era bella a vedersi. I frutti sembravano deliziosi. E quando l'appetito cominciò a prendere il sopravvento, Eva fu fortemente tentata di disobbedire a Dio, difendendo ciò che era buono e bello non secondo le parole di Dio, ma per sé stessa. Quindi la tentazione inizia allo stesso modo per noi. I nostri occhi sono attratti da qualcosa di bello che evoca un desiderio dentro di noi. Fissiamo lo sguardo su di esse e l'appetito si agita dentro di noi. No? Quindi ci chiediamo ma perché non posso averla? È così bello da vedere. Basta guardarlo. Ci rendiamo vittime in quel momento. Dubitiamo la bontà di Dio verso di noi e cominciamo a ragionare con noi stessi su perché dovremmo averla. Ci concentriamo sul potenziale che ha per soddisfarci. No? È così bello a vedersi. Può darmi ciò che desidero. Nel mondo dell'arte dobbiamo chiederci quale messaggio si cela dietro la presentazione della bellezza e quale desiderio sta coltivando in noi. Con chi si alienano questo messaggio e questo desiderio? Con la parola di Dio o con una verità snaturata? La tentazione inizia con uno sguardo affascinato e una verità snaturata che mette in dubbio la bontà della parola del Dio, di Dio. Poi la tentazione può quindi portare a pecare con una bellezza sfruttata. Una verità snaturata mise il cuore e la mente di Eva sulla traiettoria di prendere, mangiare e poi condividere il frutto proibito con Adamo. Lui era con lei. Insieme rifiutarono l'ordine di Dio e sfruttarono la sua bellezza per il proprio tornaconto egoistico. Genesi 3,6 descrive la caduta dell'uomo attraverso una bellezza sfruttata. Mostra il momento in cui la tentazione e il desiderio diedero vita al peccato. Descrive come l'intera razza umana, rappresentata da Adamo, si sia ribellata a Dio sfruttando la sua bellissima mostra, la mostra di cui era stata chiamata a curare. E quindi questo versetto descrive le ragioni di tutte le sofferenze e le ingiustizie che vediamo oggi. Ci spiega perché siamo come siamo, come possiamo guardare qualcosa di bello e desiderarlo per il nostro tornaconto personale. Ci spiega perché l'umanità può prendere ciò che è bello e usarlo per sfruttare gli altri. Ci insegna che non siamo sempre capaci di guardare la bellezza con motivazioni pure. Questo perché quando Adamo peccò, tutta l'umanità peccò con lui. Egli è il capo di tutta l'umanità e quindi tutti coloro che nascono dopo di lui condividono la colpa di questa ribellione. E allo stesso tempo lo continuiamo. Continuiamo. A causa del peccato di Adamo e Eva, tutti noi abbiamo partecipato allo sfruttimento della bellezza. Per cosa? Per soddisfare i nostri desideri. A prescindere dall'intervento divino, i nostri occhi e i nostri desideri sono naturalmente portati ad abbracciare verità distorte. A cedere alle tentazioni e a sfruttare la bellezza intorno a noi. Lo vediamo in tutte le scritture. Lot fu acceccato dalla bellezza della terra di Sodoma e trasferì la sua famiglia in una città piena di malvagità. Esau, affascinato da una deliziosa zuppa, vendette la sua primogenitura al fratello per soddisfare la sua fama momentanea. Sansone inseguì la bellezza della pagana Delilah per soddisfare la sua lussuria e finì acceccato e in catene. Forse non c'è esempio più grande del re Davide, no? Una sera era da solo sul tetto e vide la bellezza di Batsheba mentre faceva il bagno, no? Desiderava la sua bellezza per sé. Aveva tutto ciò di cui poteva avere bisogno. Era il re di Israele, no? Eppure desiderava ciò che non era suo. Davide ascoltò una verità snaturata in quel momento, secondo cui meritava di avere la moglie di un altro uomo. Vide che era bella, bellissima e in grado di soddisfare il suo desiderio. E consumato dalla cupidigia, la prese come sua e poi fece uccidere il suo marito. Davide sfruttò la sua bellezza. Sfruttò la bellezza dell'intimità sessuale, prendendo qualcosa che era buono ma proibito per lui e pecò contro Dio. E la sua decisione ebbe conseguenze devastanti per le generazioni a venire. In tutte le scritture vediamo la inclinazione naturale dell'uomo a sfruttare la bellezza per sé stesso e la vediamo oggi intorno a noi, soprattutto nelle arti. Invece di ammirare la bellezza e glorificare Dio, la vediamo attraverso la lente del peccato. Invece di creare bellezza per rispecchiare la bontà di Dio e coltivare il bene della comunità, promuoviamo noi stessi. Ma quante volte uomini, donne e persino bambini vengono oggettificati nelle arti con un richiamo al desiderio peccaminoso? Il corpo umano è una creazione di Dio ed è bellissimo, ma le persone peccaminose lo sfruttano per scopi egoistici nella creazione dell'arte. Per cosa? Per cattolare gli occhi usuriosi delle persone peccatrici, come siamo noi. L'arte nella pubblicità è usata per promuovere il benessere e la conoscenza, no? Ma è anche usata in modo ingannevole per manipolare il pubblico e indurlo a comprare cose di cui non ha bisogno, o per promuovere ideologie peccaminose, o per fomentare tensioni razziali e per spingere standard di bellezza distorti e irrealistici che queste giovani donne seguono. L'arte religiosa può essere usata per suscitare l'effetto per le cose di Dio, grazie a Dio, grazie a Dio per questo, no? Ma spesso sfrutta la bellezza del popolo di Dio, elevandolo, presentandolo come oggetto di devozione e culto. Questo vediamo in un modo molto forte in questa città. Poi la bellezza architettonica viene usata per costruire rifugi, ospedali, scuole e ponti per collegare la comunità, ma ha anche costruito spazi che sfruttano i nostri desideri peccaminosi, no? Basta guardare il Colosseo. È di una bellezza molto affiato, no? Ma è stato costruito per sfruttare i cuori malvagi delle persone, per intrattenere le masse attraverso esibizioni pubbliche di violenza e stupro. Tutto questo per dire che c'è uno standard di bellezza che viene da Dio e che siamo chiamati ad abbracciare e coltivare il suo standard di bellezza attraverso le arti. Ma la tendenza peccaminosa dell'umanità, dal giorno in cui Adamo e Eva credettero a una bugia e mangiarono il frutto proibito, è quella di definire la bellezza per noi stessi, di sfruttarla per la nostra gloria. E cosa succede quando lo facciamo? Vuoto, isolamento, schiavitù, schiavitù, vergogna, morte. Con un solo morso, gli occhi di Adamo e Eva si aprirono. Seppero di essere nudi e furono felici? Soddisfatti? Piene di gioia? No. Si vergognavano. E poi si ritrovarono con una brama insoddisfatta. I portatori dell'immagine di Dio, creati buoni e belli, creati per coltivare e moltiplicare la bontà e la bellezza di Dio, erano caduti nel peccato ed erano stati maledetti con la morte imminente. E come i creatori di immagini di Dio, che creano, si misero subito a creare. Ma la loro prima creazione, dopo la caduta, non era destinata a rispecchiare la bellezza di Dio, bensì a coprire la loro brutta vergogna. Verso 7. Le belle foglie di un figo furono prese e cucite insieme per coprire la loro nudità. ciò che doveva essere visto come bello li riempì di vergogna. Il loro atto bramosso di prendere ciò che non gli apparteneva li lasciò vuoti. Invece di considerarsi uguali a Dio, si ritrovarono separati da Lui. Invece di soddisfare la loro brama di autonomia, rimassero isolati e insorrisfatti. Il fatto che Dio abbia creato un albero bellissimo e poi abbia proibito il consumo del suo frutto, non lo rende colpevole di peccato. Questo è molto importante. Dio non può pecare perché è santo. Inoltre, il fatto che desideriamo ciò che è bello non ci rende colpevole di peccato neanche. Giacomo 1, 13 a 15 dice che non tutti i desideri che abbiamo sono cattivi, ma tutti i nostri desideri hanno una capacità di far del male. Non è un peccato desiderare l'amore o la pace o l'intimità. Questi desideri sono la prova che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Desideriamo la bellezza. Il mondo dell'arte è pieno di creazioni che parlano della brama umana di amore, pace, intimità. Ma poiché condividiamo il peccato di Adamo e Eva, nati con una natura corrotta, la nostra carne cerca naturalmente di soddisfare questi desideri attraverso mezzi distruttivi che inducono alla vergogna. La tentazione di pecare nasce dalla brama della nostra carne di ottenere potere, autonomia, intimità e piacere in modi che sono malvagi e contrari alla volontà di Dio. Questa brama getta il seme del peccato e la decisione di pecare porta alla nascita di un atto peccaminoso. Il peccato, come un bambino, quindi cresce e si rafforza fino a portarci alla morte. Nasciamo con l'abitudine di ridefinire il significato di bellezza di qualcosa. Nasciamo con l'imposto di sfruttare la bellezza della creazione di Dio per soddisfare i nostri desideri peccaminosi, per poi ritrovarci vuoti, schiavi, vergognosi. La bellezza che spesso osserviamo e a cui diciamo è bello vederti, ci lascia con una brama insoddisfatta. E ciò che doveva essere bello diventa una fonte di vergogna per scopi egoistici. C'è speranza per la bellezza? Come possiamo riconquistare il nostro sguardo perduto sulla bellezza? Come possiamo ridefinirla? C'è solo un modo. Il versetto 9 ci rivela che Dio non ha lasciato i suoi portatori di immagine a stupirsi senza speranza. Non sono stati lasciati nella loro vergogna. Sapendo bene che l'uomo aveva distorto la sua verità e sfruttato la sua bellissima creazione per la propria gloria, Dio partì in missione per salvarli. Nel versetto 9 Dio chiama i suoi portatori di immagine dicendo dove siete? Dove siete? E nella sua misericordia e grazia Dio iniziò una missione per rimuovere la loro vergogna e rinnovare la loro comprensione della bellezza e lo fece con la promessa di scacciare la testa del serpente. Con la venuta del figlio di Dio nella persona di Gesù Cristo Dio ha mostrato la sua bellezza per riconquistare lo sguardo distratto del suo popolo, restituirli la vista. Attraverso la vita perfetta, la morte e la resurrezione di Cristo, l'umanità trova una rinnovata comprensione della bellezza, lo standard di bellezza di Dio. Gesù Cristo ha rivelato l'amore perfetto del Padre mentre camminava in mezzo a noi. E non avendo mai peccato, Gesù ha ingoiato il frutto velenoso del nostro peccato quando è morto al posto degli sfruttatori della bellezza di Dio. E tre giorni dopo il nostro Signore, il re dell'universo, è risorto dalla morte come primo della nuova umanità. Quindi Dio sta ancora aprendo gli occhi del suo popolo per vedere la vera bellezza di Gesù Cristo. E forse ti sta chiamando in questo momento dicendo dove sei? Dove sei? Come risponderesti? Chiunque si pente del proprio sguardo ribelle e si affidi a Gesù Cristo per essere salvato non è più sotto Adamo, ma è unito a Cristo e diventa una nuova creazione con una visione rinnovata della bellezza. Quindi fratelli e sorelle, da questa parte dell'eternità l'arte non ha perso la sua potenza ingannevole. L'arte è prodotta e gustata da persone peccatrici. Ma grazie a Gesù Cristo, quando ci mentiamo con le arti, sia nell'atto di creare che nell'osservare ciò che è stato creato, possiamo farlo con occhi nuovi. La prossima volta, quindi, che vedrai un'opera di arte, chiediti se rispecchia la bellezza secondo gli standard di Dio o del mondo. dobbiamo stare attenti alle tentazioni ingannevoli che l'arte può coltivare nei nostri cuori e nelle nostre menti. Quindi qual è il frutto che hai davanti a te in quel momento? Qual è il frutto? E qual è il messaggio che ti viene presentato con quel frutto? La prossima volta che ascolterai una bella canzone che ti piace, ma che ha un testo che non onora il Signore, cosa farai? Oppure quando scegli o leggi un libro, chiedi a te stesso se il contenuto e le immagini che evocano la tua mente sono in linea con la definizione di bellezza data da Dio. I libri si chiudono facilmente. Oppure la prossima volta che ti siederai a guardare una meraviglia del cinema, con una trama avvincente, ma con sceni e temi inappropriati. Tolererai il peccato perché, dopo tutto, si tratta solo di arte. Quindi, cari, i pensieri e le emozioni coltivate dell'arte che usurviamo dovrebbero evocare lode e fedeltà al creatore di ogni bellezza. La nostra lode non deve fermarsi all'oggetto della bellezza in sé, quindi il canto, il film, il dipinto, il piatto di cibo. Devi portarci a lodare Dio. La nostra lode non deve fermarsi a quell'oggetto della bellezza in sé, né portarci a servirlo con noi stessi. Grazie alla potenza di Dio in Gesù Cristo. Siamo stati riorientati per difenderci dalle forme distorte di bellezza. Con lo sguardo rivolto a Cristo e le forze dello Spirito Santo possiamo essere promotori della vera bellezza piuttosto che sfruttarla. La bellezza non è potere, ma umiltà. La bellezza non è indulgenza sconsiderata, ma autocontrollo. Non è guadagno egoistico, ma un sacrificio umile. Non è vendetta, ma misericordia, perché la bellezza è Cristo. Fratelli e sorelle, come Simeone in Luca capitolo 2, Dio ci ha permesso di vedere la bellezza della sua salvezza in Gesù Cristo. E mentre ora vediamo debolmente, un giorno lo vedremo faccia a faccia, pienamente soddisfatti, mentre adoriamolo dicendo, è così bello vederti. Signore, Salvatore, Re dell'universo, il mio amico migliore. Preghiamo. Glorioso Creatore, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ti ringraziamo per le opere delle Tue mani, Signore. Esse dichiarano la Tua gloria, la Tua maestà, la Tua bellezza. Siamo tutti peccatori, Signore. Tutti noi abbiamo abbracciato forme distorte di bellezza. Grazie per la Tua misericordia e per la Tua parola che dice la verità e fai nascere nuove creazioni per la Tua gloria. Grazie perché in Cristo ristabilisci la nostra comprensione della bellezza quando fissi i nostri occhi su di Lui. Signore, preghiamo che possiamo promuovere le arti affinché possano vedere la Tua bellezza, che possiamo impegnarci nelle arti in modo che ti onorino, Signore, che rivelino le distorsioni della verità in modo che indichino alle persone la Tua vera bellezza, per promuovere la Tua giustizia, per dimostrare la Tua misericordia e il bisogno che abbiamo tutti di essere guariti dalla Tua grazia. Proteggici dalle tentazioni della nostra carne, Signore. Donaci la saggezza con la potenza del tuo spirito, aiutarci ad evitare le trappole delle verità snaturate affinché non sfruttiamo la Tua creazione e non cadiamo nel peccato. Ma quando lo facciamo e lo faremo, ti ringraziamo per la croce di Cristo dove hai supportato e cancellato la nostra vergogna affinché potessimo essere liberi dal peccato e liberi di godere di ciò che Tu chiami bello. Ti chiediamo questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.